cari fratelli e sorelle 25 anni fa il 9 novembre 1989 cadeva il muro di berlino che per tanto tempo ha tagliato in due la città è stato simbolo della divisione ideologica dell'europa e del mondo intero. Preghiamo perché con l'aiuto del Signore e con la collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà si diffonda sempre più una cultura dell'incontro capace di far cadere tutti i muri che ancora dividono il mondo. Dove c'è un muro c'è chiusura di cuore servono ponti non muri